6 minuti e 58, nessun cambio da parte dei due mister. Abbiamo due esterni molto veloci come parafatti e come bla bla noiono la palla verso il Messi e ahhh! Un gol! La sotto il Messi e il Messi! 1-0 salvanetto! Dalle qualità che ha per cambiare una partita mentre quattrone dai basso Uno pari Quattrone Nessuno ha quattrone, quattrone solo, infatti viene servito, io non lo so Io non lo so Non capisco Non capisco io Quattrone erano due ore che era solo E allora gentilmente vi chiudete in settimana e mi fate gli allenamenti per quanto riguarda i corner Con relative marchi a due Il Messi è entrato ora, può dare parisi E' un gol! si è fatto male, si è fatto male a Monaco si è fatto male a Monaco, attenzione chiamo Monaco, non ci credo, incredibile un Monaco a terra non l'hanno segnato è a due, noi non sappiamo neanche l'autore del gol, ora ci spaltiamo adesso abbiamo il quarto da parte di Pratico Minniti, assist decisivo il quarto Pratico non vediamo più, siamo proprio sulle gambe Politi, Politi prende questo pallone la palla per il Messia, il Messia per Parisi andiamo, un gol L'osso di Parisi 4 a 3 per la Ludo, Soverato terzo gol Parisi sul parche amico della Palla Sport, Franco Scopa ora la palla per il Messia il Messia un gol L'osso di Messia incredibile amici 4 pari soverato amici